Parliamo del DM560, il decreto BIM e in particolare cerchiamo di inquadrare il decreto all'interno dello stato dei disposti normativi attuali. Il legislatore con l'articolo 23 ha inserito tra le finalità del progetto, quindi con interesse elevatissimo, l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici per la modellazione delle infrastrutture e delle costruzioni in genere e inoltre ha demandato sempre l'articolo 23 da un apposito decreto, il 560 appunto, la definizione, le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dell'uso di queste metodologie. Il decreto entra in vigore nel gennaio del 2018 e di fatto stabilisce principalmente la progressiva dell'obbligatorietà dell'uso, cioè il decreto stabilisce che per i progetti avviati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso vi siano delle soglie di introduzione via via scalare che partono dai 100 milioni per il 2019 fino ad arrivare diciamo al di sotto del milione al 2025. Si tratta quindi di un'obbligatorietà progressiva che vedrà via via un incremento delle attività soggette all'obbligo dell'utilizzo del BIM. Sostanzialmente il decreto poi evidenzia alcuni elementi cogenti e obbligatori per le stazioni appaltanti che vogliono richiedere l'utilizzo della metodologia. Si tratta principalmente del piano di formazione, un piano di acquisizione hardware e software e di un atto organizzativo che vada a definire quella che è la gestione dei flussi di lavoro all'interno della stessa stazione appaltante. Il decreto inoltre fissa altri elementi obbligatori. Il primo e il più importante è la necessità per le stazioni appaltanti di dotarsi di un capitolato informativo, capitolato informativo che appunto dà le regole dell'utilizzo del BIM per i contraenti dell'appalto, i quali poi a loro volta producono una proposta di gestione informativa e poi l'offerta di gestione informativa in risposta al capitolato informativo. Ma la parte principale, oltre alla progressiva obbligatorietà del decreto, riguarda l'indicazione del decreto rispetto all'oggetto del contratto. Sostanzialmente il decreto dice che, diciamo, la prevalenza dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico o, quando questo è tecnologicamente possibile, che comunque tutti i contenuti informativi devono essere relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dati. Si tratta quindi di un passo importante che va a richiedere una grande interoperabilità dei sistemi, interoperabilità che il decreto, come il codice, ribadiscono, cioè il fatto che le stazioni appaltanti debbano usare piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti e non proprietari per l'utilizzo del BIM. Quindi da un lato abbiamo una serie di disposti piuttosto impegnativi. La ragionevolezza di tutto questo sta nel fatto che attraverso l'utilizzo del BIM si arriva, si può conseguire la digitalizzazione del processo delle costruzioni. Questo è sicuramente un elemento di rimente ai fini dell'ottenimento di minori costi nell'ambito del mondo delle costruzioni. Le BIM Task Group indica in circa 130 miliardi la cifra che può essere effettivamente risparmiata attraverso l'utilizzo nell'ambito dell'unione della metodologia. Quindi si tratta di cifre importanti. In percentuale quindi devo dire che questa attività, la digitalizzazione del processo è sicuramente da conseguire. Ecco che però da questo punto di vista è chiaro che il legislatore ha intuito che e ha di fatto disposto in questo modo che il ruolo delle stazioni appaltanti pubbliche, quindi del player pubblico, fosse centrale all'interno di questo processo. Quindi che la stazione appaltante pubblica dovesse essere effettivamente motore di questo processo per conseguire questi risparmi. Se questo da una parte è tutto vero ecco che però la stazione appaltante pubblica avrebbe bisogno poi di qualcosa di un po' più operativo, di un po' più portato a terra per l'applicazione di questa nuova metodologia. Tutto questo aveva cercato di provvedere l'autorità con una versione delle linee guida 1 posta in consultazione. All'esito di questa consultazione però il Consiglio di Stato chiamato a esprimere parere su queste linee 1 ha evidenziato come la linea guida 1 nella versione in consultazione che parlava del decreto, quindi andava a dare strumenti un po' più operativi alle stazioni appaltanti nell'ambito del decreto fosse tuttavia riferita a un decreto che in realtà avrebbe dovuto essere pubblicato sotto forma di regolamento e quindi richiedeva preliminarmente il parere dello stesso Consiglio di Stato. Tutto questo fa dire al Consiglio di Stato quindi fa ritenere al Consiglio di Stato illegittimo il decreto stesso. Ora su questo punto chiaramente parte tutta una grande incettezza degli operatori nel senso che oggettivamente si era con un quadro piuttosto definito che adesso in qualche misura seppur minima viene rimesso in gioco quindi sarebbe auspicabile nel futuro un intervento chiarificatore che diciamo arrivi a definire bene gli obblighi necessari all'introduzione del BIM nell'ambito dei contratti pubblici.